Ecco la sorpresa di questa sera. Gli innesimi imbecilli, o non so chi, insomma, che sicuramente non so cosa abbiamo fatto in questo mondo, così ci hanno ridotto la nostra clubhouse. Vetri distrutti, magazzino, questa panca era fuori, hanno sfondato il vetro. Televisore enorme, sradicato e buttato a terra. Non oso neanche alzarlo perché mi viene da piangere. Il nostro magazzino dell'abbigliamento, addirittura la luce staccata, porta di velta. Fatica anche a entrare. L'ufficio lasciamo perdere perché, guardate, l'ufficio cosa ci hanno combinato. Stampante professionale, computer, cioè ci hanno rovesciato gli armadi, ci hanno rovesciato, cioè non riesco neanche ad arrivare in fondo. La macchina del caffè. Io non so cosa dire. Perché? Perché stiamo cercando di andare avanti, di fare attività per i ragazzi, seguendo le norme Covid e tutto, e con mille difficoltà in questo periodo, perché, logicamente, è un periodo difficile per tutti, sotto mille aspetti, e questi sono quello che ci si trova. Non ho parole miei da piangere. Non ho parole. Va bene.